Un incubo durato più di 12 anni. Ieri pomeriggio, dopo due ore in Camera di Consiglio, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la soluzione piena perché il fatto non sussiste. Un sospiro di sollievo per le cinque persone accusate di peculato, cioè di aver intascato, senza girarli all'Azur, i soldi che le famiglie dei difunti davano per la vestizione dei loro cari. L'indagine era stata avviata nel 2011 per fatti avvenuti tra il 2001 e il 2013. Il caso era stato portato alla ribalta nazionale ed era finito anche sulle Iene. Avvocato è riuscita a dimostrare le straneità ai fatti del suo assistito. Immagino sia stato un lavoro lungo ma anche complesso. Assolutamente sì, è stato un lavoro molto complesso anche perché sono state analizzate all'incirca 3.500 fatture, bolle, documenti molto frammentari, intercettazioni durate per quasi due anni con delle spese inverosimili a carico dei cittadini. Un processo ha costato milioni di euro. Sono molto contenta di questa vittoria anche se è amareggiata, amareggiata per la lentezza della giustizia, amareggiata perché abbiamo avuto cinque persone che hanno avuto una pubblicità negativa, inverosimile nella loro vita, perché all'inizio questo processo è nato come il processo del secolo con necrofori che tagliavano calotte, estirpavano e toglievano pacemaker, soldi. Il tutto è risultato tutto assolutamente falso. Sono stati arrestati, ha proseguito l'avvocato, hanno subito una decurtazione dello stipendio per oltre cinque anni e i loro nomi e cognomi sono stati iscritti su quotidiani nazionali ma la giustizia, seppur lenta, ha portato una doppia soluzione sia in primo che in secondo grado. Ecco ma ricordiamo che l'azienda ospedaliera aveva chiesto anche un risarcimento importante, a questo punto a loro volta possono richiederlo? Assolutamente no, l'azienda ospedaliera ha iniziato con dei risarcimenti esorbitanti, nel corso del primo grado io sono riuscita a dimostrare che oltre i capi d'accusa erano tantissimi e soprattutto venivano imputate oltre 1100 mancati pagamenti e ho dimostrato l'assoluta erroneità dei capi d'accusa, tant'è vero che il pubblico ministero in primo grado ha dovuto depennare dopo mie eccezioni oltre 530 defunti e poi nel corso del giudizio sono stati depennati tutti, quindi l'azienda ospedaliera... 900 circa? Assolutamente sì, basti pensare che ho trovato anche una fattura fatta a nome di Pinco Pallino nato l'anno zero in via del Paradiso, residente in via del Paradiso con tanto di codice fiscale e anche perché Pinco Pallino nato nell'anno zero veniva chiesta la condanna nei confronti del mio assistito. Avvocato ora che cosa succederà? Adesso ci godiamo il momento della vittoria, soprattutto questi 5 ex imputati potranno nuovamente guardare il sole e l'arcobaleno sorridendo e non dovranno più vergognarsi di nulla. Per il resto aspettiamo fiduciosi la fine di tutto e quindi l'irevocabilità della sentenza e poi valuteremo come ridare dignità a queste persone, come giusto che sia.